su questo argomento ovviamente. Prego. Grazie Presidente. Noi invece non siamo favorevoli a questa richiesta di inversione, anzi avremmo proposto la Capigruppo, lo spostamento almeno domani mattina della discussione sulla riforma costituzionale con l'introduzione del tema dell'ambiente e la nostra proposta che avremmo formalizzato in Capigruppo è quella di fare domani il decreto trasporti, il voto immagino sulla fiducia già annunciata sul decreto trasporti e anche le dichiarazioni sulla terza lettura della riforma costituzionale che potrebbero trovare tempo sufficiente anche domani mattina. C'è un'esigenza da parte del nostro gruppo di approfondire ancora il tema. In terza lettura si tratta di una questione molto delicata e molto importante e quindi assolutamente contrario, preferiremo intanto discutere del cosiddetto decreto salvamare e poi lasciare la Capigruppo decidere su questioni così delicate senza usare la forza dei muscoli, dei numeri in quest'Aula per modificare a piacimento della maggioranza anche queste questioni che sono state dibattute a lungo nella Capigruppo e che non possono essere modificate all'ultimo minuto su decisione di un pezzo del Senato. Quindi siccome abbiamo sempre avuto noi un atteggiamento responsabile rispetto alla forza proponderante della maggioranza chiediamo che queste decisioni non vengano così comunicate all'unica forza di opposizione all'ultimo momento perché non è modo di procedere. Non è modo di procedere, non è né cortese né rispettoso del ruolo dell'opposizione che da sola deve fronteggiare con venti senatori tutti gli argomenti che vengono dalla maggioranza posti all'attenzione senza considerare che c'è un ennesimo decreto con un'ennesima fiducia. Quindi se la Commissione incaricata di valutare e di esaminare il decreto trasporti è in ritardo la colpa non è dell'opposizione la colpa è della maggioranza che ancora una volta arriva all'ultimo minuto prima della scadenza del decreto. Quindi continuiamo con l'ordine del giorno così come previsto e lasciamo che sia la Capigruppo che si unisce tra tre ore a decidere come proseguire.